Ciao a tutti, viaggi in universi paralleli, forse li hai fatto pure tempo. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, cosa sono i viaggi negli universi paralleli? Questo è uno... intanto gli universi paralleli sono una scienza di confine, diciamo così. La teoria del multiverso è stata elaborata nell'ambito della quantistica che prevede infiniti possibili universi. Alcuni molto simili ai nostri, altri molto molto diversi. Quindi esiste un universo dove, diciamo, noi non siamo mai nati, universi dove siamo nati e già morti, universi dove siamo nati e abbiamo fatto cose completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto. In realtà una spiegazione semplice di questo sta nel rappresentare le nostre scelte. Se noi avessimo fatto delle scelte... ogni secondo abbiamo possibilità di fare almeno sei scelte, così viene detto. Se noi compiamo scelte diverse rispetto a quelle che facciamo, quelle fatte, diciamo, avremo una vita completamente diversa. O potremmo non avere più una vita. Pensate, non lo so, uno viaggia in macchina, o in moto, diciamo così, decido o meno di fare un sorpasso. Magari nella direzione contraria sta arrivando un'auto. Questo sorpasso potrebbe determinare la sua vita o la sua morte. Cioè, se lo fa, rischia di morire per incidente, per frontale. Se non lo fa, non succede nulla. Ora, quale delle due si avvera? Beh, noi ne sperimentiamo una, ma anche l'altra è una possibilità. Quindi esiste un universo dove succede quella cosa. Quindi, se gli universi sono infiniti, sono infiniti. Quindi esistono degli universi in cui molto, molto simili nostri, con qualche piccola variante. Più ci allontaniamo, diciamo così, dalla nostra dimensione, più le varianti sono tante. Quindi esiste, ad esempio, un universo parallelo, dove un oggetto che noi abbiamo posizionato in un punto l'abbiamo in realtà posizionato in un altro. Tutte le altre situazioni sono uguali. C'è solo questa variante. O magari anche altre varianti, di cui però non ci rendiamo conto. Ci sono universi dove magari la nostra città è diversa. Esiste sempre, ma è diversa. Gli abitanti sono diversi, tutte strutturate in modo diverso. Ci sono stati casi di persone che hanno, diciamo, attraversato quelle che vengono dette porte spazio temporali, senza ovviamente rendersene conto, e si sono trovati in luoghi che è completamente diversi da quelli che ricordavano loro. Ci sono diversi di questi casi documentati. Poi, normalmente, il nostro universo ci attira e ritorniamo, diciamo, nella configurazione iniziale. Però è possibile che per alcuni momenti, che possono anche essere, diciamo, anche ore talvolta, noi facciamo, come dire, breccia in altri universi. E chi era nell'altro universo, il nostro corrispettivo, finisce nel nostro. Qui avviene uno scambio dimensionale. Ovviamente quando accade questo non ce ne rendiamo neanche conto molte volte, perché le differenze sono veramente minime. Quando però le differenze, e quindi magari crediamo di aver perso un oggetto, di averlo posizionato in un punto, non ci ricordiamo più, attribuiamo normalmente a una lacuna della memoria. In realtà potrebbe essere stato un passaggio dimensionale. Normalmente questi passaggi dimensionali avvengono senza che neanche ce ne rendiamo conto. E li attribuiamo a deficit cognitivi, di memoria, cose di questo genere. Talvolta, come in alcuni casi, nella storia ce ne sono stati tanti, in cui le varianti erano molte di più, per cui non si poteva attribuire alla, diciamo, alla memoria. E le persone si sono trovate veramente in situazioni anomali, strane, paradossali. Non ricordando persone, non ricordando zone, non ricordando località. Poi tutto torna normale, perché per un equilibrio che non ci è dato conoscere, si ritorna naturalmente dal nostro universo. Queste porte spaziotemporali potrebbero anche essere utilizzate per viaggiare, diciamo, per muoversi nello spazio-tempo. Gli Stargate, diciamo, tutta la cultura dell'antico Egizio è basata un po' su questo concetto di Stargate. e probabilmente degli antichi astronauti venuti sulla Terra alcune migliaia di anni fa avevano questa tecnologia. Però è un fatto che può accadere naturalmente perché naturalmente esistono delle porte spaziotemporali, cioè esistono dei luoghi dove si può effettuare questa transizione. Noi abbiamo questa possibilità di muoverci quindi non soltanto nello spazio-tempo, ma muoverci tra universi paralleli, senza che ce ne rendiamo conto. È una delle tante capacità che abbiamo, ma che non sappiamo di avere. Quindi prova a pensare un attimino alla tua vita, se ti è capitato qualche evento strano, qualche situazione particolare, in cui non riconoscevi più le cose, le persone, le situazioni, perché potrebbe veramente essersi trattato di un passaggio multidimensionale. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, anche in Puntucità Benessere. Ciao a tutti!